Buonasera, in Italia, allora nelle immagini di apertura di questo servizio abbiamo visto tanti ragazzi albanesi che sono venuti in Italia, uno di questi ragazzi era lui, era lui che poi è cresciuto, è stato un giocatore di successo e adesso da dieci anni il direttore sportivo della Lazio. Buonasera prima di tutto, io purtroppo non faccio parte di quella generazione che è arrivato in Italia ma anche io ho fatto questa esperienza andando in Germania prima di venire nel 92, entrando anche io all'epoca illegalmente in Germania cercando la strada, la via del successo. E' stato sempre stato un mio sogno di avere in Italia, di giocare in Italia e purtroppo con il tempo, con il passato del tempo sono riuscito anche a realizzare questo sogno e mi trovo veramente molto bene in questo paese. Nello stesso momento non sono una persona che ama molto la politica ma amo molto il mio paese. Questo che sta succedendo ultimamente nel nostro paese è un qualcosa che soprattutto per noi che siamo lontani dal nostro paese, il nostro popolo, è molto importante l'immagine che noi diamo. Noi cerchiamo di fare la nostra parte qui all'estero e lo stesso aspettiamo anche che nel nostro paese la gente devono essere molto responsabili perché la crescita che è stata fatta negli ultimi anni è stata molto importante e dobbiamo essere anche responsabili di dare un segnale forte anche al mondo intero di questa crescita. La cosa giusta dell'opposizione è di tornare al Parlamento perché solo lì si possono discutere i problemi che abbiamo. Questo che sta succedendo negli ultimi tempi è una cosa, io ho letto due giorni fa l'intervista di un artista famoso albanese che ha detto in una di queste contestazioni che sono state fatte qualche giorno fa hanno bruciato una gomma di una macchina davanti al Parlamento e lui disse ci vogliono duecento concerti miei per pulire l'immagine del nostro paese all'estero e lo stesso lo penso anche io che dobbiamo essere molto responsabili perché siamo una nazione che ha sofferto tanto, il nostro popolo merita veramente un qualcosa di buono, cerchiamo, siamo pro Europa, siamo un paese in crescita in un buon sviluppo e i problemi li dobbiamo risolvere a casa nostra ma con grande responsabilità. Grazie a tutti.